prendiamo e andiamo su... non qui, qua, guida acquatica ok, andiamo a fare il gettone non mi ricordo bene dove sta l'elettrica qui vabbè, lo scopriremo durante la partita dai, su, dai, carica, carica beh, guarda, mi sa che l'ho già vista una vabbè, ci so bene dove è è dove prendo la scorciatore all'inizio circuito questa qui sono riuscita a marcherla, perfetto la partezza è da dio ci manca solo che l'ha perso e salto una più a volte sarà a posto siamo abbiamo il quadro completo allora, la N invece si trova nell'altra scorciatore a cui di salto qui a lato è la tappa che non mi ricordo dove sta sta nel tubone, però non mi ricordo dove è nel tubone andiamo nel tubone vediamo i pesci che volano aspetta, aspetta, mi ricordo, mi ricordo qui eccola, eccola ok, l'ho presa e in cambio noi ci hanno ricevuto un ragazzo nel sedere bene e adesso se mi fate quei se mi fai questo favore di andare avanti dritto per riuscire a prendere la C ok, bene adesso dobbiamo solamente fare altri due giri e abbiamo finito non c'è ne è capa e poi da preso il tempo prova a tempo cioè ha fatto ha impiegato un po' che ha ricassi perché ha aspettato che facessi quel coso là a parte che sono una cretina a piazza ecco mi ha perso un altro sono una cretina io a piazzare a queste cose cioè perché io a piazza così senza senza rendermene conto e poi faccio la piazzina perché praticamente nel piazzo dove non devo piazzare e adesso me l'hai data la cia volta mi ha riconosciuto che avevo la sprint ricordo che se tu raggiungi 50 spinte con il gruppo 20 50 spinte con il gruppo cortex in una pista puoi sbloccare un personaggio per ognuno no niente a fare ce l'ho quasi come sei come sei posizionato crash e adesso il videolino non ne voglio parlare bene perché avevo notato con piacere che tutte le mie cose le avevano beccate tutti però si bianissimo bene vedo venisce già il podio da qui ok vediamo già il podio vabbè io che ballo Coco che guarda il computer e Oxide come avevo detto che vuole schiacciare il cappone guardate guardate ecco guarda guarda lì è cacciato l'avevo detto io che è cazzato perché non si stava oggi il cappello proprio è cazzato perché lui lui era la persona quindi si doveva sfogare schiacciando il cappello non ci vedeva giù venivano ancora cazzato si ho vinto un gettone vai retromarcia questo non andava retromarcia no cosa fa indietro indietro sfida l'eliquio ok corsa l'eliquio dai che se facciamo questo abbiamo finito barin ragazzo abbiamo completato anche barin e poi andiamo andiamo a fenomena come avevo detto se riesco guida quattro dai su due minuti effetti addiravati sempre aumenta sempre i dieci secondi il tempo limite perché le piste sono sempre più lunghe qui c'è sono due da uno dai dove sono sbattuta dove sono sbattuta ma dove ho sbattuta dove ho sbattuta dai non va bene che qui ci sono qui dovrò almeno a dieci secondi qui mia qui ce n'è una da un da la pesa ah ok oh le ecco 40 secondi 40 secondi per il primo giro ok va bene va benissimo allora io devo prendere le casse che qui vuole farlo scusci toglierla ahimè devo prendere anche le casse qui nel percorso normale dai in qui madonna quanto tempo dai adesso voglio fare 50 spinte super spinta come direbbe fin di ah come direbbe fin di scrande giant vi ricordate ragazzi no manca 30 secondi quanta no si 30 non ce la farò mai mi sono soddisfatta prima che avevo preso tanto tempo ah sono 30 20 secondi dai dai accelera bacca 10 secondi no ne ho preso invece invece madonna 6 secondi mancavano sii ho vinto ho finito baghi ho finito baghi sì grazie qui altri tempi sarà passata assolutamente sì adesso devo salvare anche qui normalmente perché ovviamente qui mi ha salvato effettivamente salviamo subito la partita subito 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 anche se se sotto dopo fa lo stesso riportate che mi salvi questo perfetto è anche bari incompletato adesso dobbiamo andare a fenomena ok il terzo mondo andiamo al terzo mondo che è qui fenomeno eccoci